Non so se si sente il rumore di sottofondo, adesso forse hanno smesso anche un po', però che stanno bucando la strada proprio qui vicino a dove abito io. Non mi sono posto grande problema di registrare nonostante il rumore, in quanto magari dà più realismo, non lo so, comunque cercherò di ridurlo con il software, quindi non so neanche se lo sentirete. In ogni caso, perché vi parlo di un argomento così stupido forse? Appunto, probabilmente non è l'argomento più interessante che tutti vorranno sentire, ne sono consapevole, ma lo devo dire, perché mi fa incavolare ogni volta che vedo bucare le strade per andare alla ricerca dell'acqua perduta o della fuga di gas o del cavo della luce, insomma, mi sembra quasi un titolo di un film di Indiana Jones. Cioè, non c'è un sistema un po' più efficiente? Cioè, pensate, in una strada ci passano la luce, il telefono e la fibra e l'acqua e le fogne e il gas e non me ne vengono altre in mente. Sicuramente non è, non sono un ingegnere e non sono forse la persona più appropriata ad affrontare questo argomento proprio nello specifico, perché magari entreranno, non lo so, nel discorso tante altre cose più complesse che magari non conosco, però ogni volta che c'è un guasto a qualsiasi di queste utenze, di questi servizi che passano sotto le strade, devono rompere l'asfalto, asportarlo, andare a cercare l'esatto punto dove passa il cavo, il tubo, quello che sia, andare alla ricerca dell'esatto punto dove c'è la fuga di gas, come in questo caso, o dell'acqua o del danno, del guasto che c'è da riparare, per poi quindi ritornare a mettere un po' di ghiaia che poi insomma col passare di tempo non è più assestata come prima, andare a trattoppare un po' come si riesce insomma l'asfalto che non è più come prima e da un asfalto che era insomma in buono stato, sicuramente nei prossimi anni ci sarà l'avvallamento, il dosso, per cui una nuova buca che crea anche un danno ovviamente estetico, se vogliamo io sono un architetto, per me l'estetica è anche importante, ma soprattutto un danno di sicurezza, queste buche non sono sicure, sono sicuro di poter parlare che da nord a sud le nostre strade sono piene di buche, perché non c'è un lavoro ben fatto alla base e per cui ogni volta si fanno questi interventi. E mi incavolo, mi incavolo, perché in tutti questi anni io non vedo un'altra via d'uscita da parte loro, in realtà io l'ho sempre pensato, ma perché non si fanno delle strade più intelligenti o comunque una struttura per cui ti preveda uno spazio lì sotto della strada dove passano tutte le tubature, dove tu potrai accedere, verificare, magari le tubature dovranno essere divise perché l'acqua pulita, l'acqua corrente non può andare insieme alla fogna, così come magari la luce interferisce con la fibra o con il telefono, non lo so, ripeto, non è un mio argomento per cui posso andare così a fondo, però potranno esserci la possibilità di dividere comunque all'interno i vari servizi ma poterci comunque accedere per eventualmente ripararli senza distruggere ogni volta la strada. Cioè non si è trovato in tutti questi anni un sistema più efficiente e quella cosa che mi fa arrabbiare è proprio questo, di continuare a fare un lavoro perché l'hai fatto per dieci anni senza trovare un sistema più efficiente o più ecologico se vogliamo anche, o come dire anche più intelligente. E io ribadisco, avevo disegnato maggior anni fa una sezioncina per cui mi immaginavo una strada accessibile, che posso accedere sotto terra dove posso avere i miei spazi dove passare tutte le tubature, tutto quello che ho bisogno per cui magari si può anche sfruttare, perché no, da avere dei posteggi sotterrani sotto le strade. Non capisco perché non si sia mai pensato e io obiettivamente non ho mai visto delle strade concepite in questa maniera. Non dico la stradina corta, piccolina, di un borgo italiano per dire che non ha nessun senso per vedere un posteggio al di sotto, però le grandi strade, i grandi viali hanno tanti spazi. Tu, da un posticino, per dire all'inizio della strada, di un controviale, hai la possibilità di scendere sotto, hai anche il posteggio, la strada al di sopra, diciamo, è anche più protetta, perché isolata, perché su una base di cemento probabilmente più solida, più che su un terreno con un sottofondo magari approssimativo. Insomma, a me è venuto anche in mente un disegno di Leonardo, Leonardo da Vinci, quindi parliamo del 1400, che lui aveva fatto questo disegnino, in una sezione per cui c'era l'abitazione, per cui sotto nelle cantine c'era la… quindi sottoterra, sotto il livello stradale, c'era un accesso dove si poteva un altro spazio, quindi dove passava in quel caso un canale, perché mi pare che forse usava i canali dei navigli a Milano, comunque utilizzava sottoterra, un canale sotterraneo per poter trasportare i demerciti, comunque un trasporto sotterraneo in modo da non interferire sulla vita cittadina che stava appunto al di sopra nel livello del piano terra, dedicato proprio alla gente, ai pedoni, che in quel caso nel 1400 non stiamo parlando di strade come le abbiamo adesso, piene di macchine. Quindi pensate già alla mentalità comunque di dividere il trasporto, o comunque il trasporto di merci, o comunque anche le fogne, che anche in quel caso il canale probabilmente serviva proprio per lo scarico delle fogne, e quindi comunque il passaggio di tutti i servizi che potevano esserci a quel tempo, con la divisione appunto con la vita di tutti i giorni, la vita delle persone che abitano in una città. Pensate nel 1400 era stata fatta questa netta divisione, nel 2022 almeno io non vedo grandi sviluppi, se non mi viene in mente che ne so a Shanghai nel Financial District che in quel caso ci passano proprio delle autostrade in Cina, hanno delle strade enormi e quindi poi il passaggio pedonale è stato fatto con delle passerelle aeree. Però ecco, sì, è una divisione tra macchine e persone, però non entriamo poi in questo discorso dei servizi, che non so come l'abbiano risolto in quel caso, spero che magari i cinesi siano un po' più furbi di noi, non lo so. Ripeto, non ho mai visto una sezione di una strada, diciamo di una strada un po' più intelligente, di una strada che possa essere usata anche lo spazio sotterraneo, sottoterra, per mettere tutti i servizi in maniera facilmente accessibili, in modo da non dover distruggere ogni volta la strada, con la possibilità magari di mettere anche dei posteggi o quello che può servire per tutti i servizi della città, che possono passare anche sottoterra, per eventualmente anche ridurre il traffico del sopraelevato e per insomma anche favorire la vita della persona che va in bici, che va a piedi. Però insomma adesso mi sto un po' sviando il discorso dal nervosismo di vedere una strada avvocata e continuare a vedere nuovi buchi che ci saranno nelle nostre strade, che sono già piene di buchi e sono pericolose, anche per me che vi piace andare in bici, trovarsi queste strade così dissestate e vederle ancora ulteriormente, una strada buona essere rovinata, ecco mi fa veramente incavolare. Scusate di questo mio sfogo, ma penso, spero che sia magari un'idea condivisa e magari può essere, se a nessuno era venuta in mente questa idea di una strada utilizzata per i servizi, per i posteggi e per tutto quello che può servire, ecco che sono arrivato io a darvi questa grossa notizia e novità. Non so neanche se sia fattibile, ma non mi sembra niente neanche di impossibile. Vedremo. Grazie.